Prego, prego Hai finito la tua video... Eh? Hai finito la tua video... No, sto iniziando Scendo a Pomigliano Vasco No, è finito la Pumigliano che va a prenderlo E poi non è che in modo Eh, allora va bene E allora fa sì di un bongo Eh, no... Eh, no... Eh... 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 46 e 44 46 6-4 Si Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.